Buongiorno a tutti. Come avete visto abbiamo cinque persone sul palco, quindi incominciamo subito. La canzone che avete sentito era legata anche al libro di cui parleremo oggi. Il titolo che abbiamo dato a questo incontro è l'ultima parola, non è la parola fine, ma la parola bene, perché queste sono le parole con cui l'autrice ha voluto terminare il libro Arco di Luce e che quindi abbiamo messo come titolo di questo incontro. Ma ci sono alcune righe di una lettera di Léon Blois che mi accompagnano da anni nell'esperienza di vita con i malati e che voglio leggervi come sottotitolo, perché dicono il perché ho voluto questo incontro in un meeting che pone come titolo la struggente domanda di che natura sia la mancanza del cuore. Léon Blois nel 1873 scriveva a un suo amico «Le anime volgari pensano che la tenerezza del cuore, questo inestinabile tesoro della vita, sia come una moneta che si cogna solo nei palazzi incantati, con l'effigie splendente della magnificenza e della felicità. Di tutte le idee false questa è la più balorda che io conosca. È vero precisamente il contrario. Si dovrebbe scrivere un libro geniale per dimostrare questa verità, pur così comune, che bisogna aver sofferto per essere capaci di amare. L'amore è un atto della volontà, ma il dolore è sempre una rivelazione anteriore a quest'atto stesso. Perché l'uomo ha nel suo povero cuore degli angoli che non esistono ancora e dove il dolore entra per portarli all'esistenza. Ebbene, vorrei dire che il libretto geniale è stato scritto, umilmente, in forma di una fiaba per bambini e di una parabola per adulti. Si chiama l'arco di luce. Allora, se è vero che tutto quello che ci accade nella vita ci provoca, cioè ci chiama, ci interpella, ci sono delle cose che sono delle provocazioni così brucianti che pongono una domanda ineludibile. La storia di Giovanna è di questa natura, ma penso che ognuno di voi in questa sala potrebbe raccontare la sua storia o quella di una persona a lui cara che lo ha provocato nello stesso modo. E anche nella mia esperienza di 40 anni di medico con i leucemici posso testimoniare che la mancanza più grande, la sete del cuore, il bisogno più grande di fronte alla malattia o alla sofferenza in genere è quello di un significato, di una speranza credibile per il proprio compimento, cioè per la propria felicità. A me spetta dirvi chi è Giovanna, ma premetto che non si può parlare di Giovanna, si può solo incontrarla, magari anche attraverso il libro, libro che troverete anche in libreria al Meeting, e riconoscere quello che l'incontro con lei provoca in noi. Io ho conosciuto Giovanna negli anni 90 quando, attraverso il dramma che le era accaduto, cioè l'uccisione del marito il 27 novembre dell'88 da un ladro sotto casa, aveva riconosciuto una chiamata vocazionale e iniziato a partecipare alla Fraternità San Giuseppe. Da subito è stata un'amica speciale. Giovanna non lasciava niente di approssimativo, ti conduceva sempre, anche in quelli che sembrano solo dettagli, al cuore dell'istante, del reale, fino a cercarvi la sostanza eterna che lo abita, vera e chiara. Insomma, con lei si trattava sempre di arrivare all'esperienza di tutto, dove la realtà si fa trasparente e si tocca l'essere. Non ti consentiva di fermarti più in superficie, di non esporre te stessa, non ti consente tuttora. Così una sera a casa sua ha preso in braccio il figlio più piccolo, perché alla morte del marito i suoi sei figli avevano da uno a 17 anni, e ci ha letto lei stessa la favola che aveva scritto per spiegare al figlio perché suo padre non c'era. Il libro è stato editato nel 94 una prima volta dagli amici di Bresso e nella mia ultima coppia ho fatto spesso fotocopie per i miei malati, quando una mamma o un papà lasciavano dei figli piccoli, perché era utilissimo a intravedere il senso di una cosa così drammatica. Ma non era l'unica tappa dell'imprevedibile nella sua vita. Più di dieci anni dopo, nel 2009, un pomeriggio in cui ero di guardia, mi telefona parlandomi di un dolore da sciatica, chiedendomi se me ne potevo fare carico. Il mio primo fugace pensiero era stato non faccio l'ortopedico, ne cerco uno bravo per lei, ma la domanda non suonava proprio così, per cui le dico di venire appena finito il lavoro, pochi minuti di visita per rendermi conto che non si trattava di sciatica e chiamare il neurologo che confermava il sospetto. Poi ho potuto solo accompagnarla al taxi essendo di guardia. Avevo il magone che cercavo di tenere per me e insieme la domanda al signore su che cosa ancora le stava chiedendo, perché trattandosi della Joe era impossibile non guardare anche questa se non come un'altra drammatica misteriosa chiamata, ma dentro il rapporto con uno che lei conosceva bene e a cui dava fiducia, cioè dentro quella familiarità che in questo meeting abbiamo incominciato a conoscere nella storia di Abramo e di Onio. Poi giorno per giorno tutto è diventato più difficile, ma anche più intenso e più grande. Oggi Giovanna è a casa, circondata dall'affetto operoso e profondo di figli e nipoti e da un intero mondo di amici che in vario modo di lei non possono fare a meno. Può muovere solo qualche piccolo muscolo dell'occhio e sorridere o piangere. Per tutto il resto dipende dall'attenzione di chi le sta accanto, che deve capire che ha bisogno di spostare a un braccio, una gamba. Le resta però la più importante di tutte le facoltà dell'io, quella di dire di sì a chi la chiama. Da qualche anno mi sono accorta che questa fiaba esprimeva delicatamente non solo il significato della morte del marito, ma anche del sacrificio e del significato della malattia, nel senso di renderla sacra. Per questo ho personalmente fortemente voluto la riedizione del libro, ma che questa avvenisse col Centro Nemo, la Fondazione Serena. E Mario Melazzini sa quante volte per un anno, anche a questo meeting l'anno scorso, l'ho importunato. Perché mi sembrava un dono, una mano tesa a malati e familiari, nel loro cammino arduo, come l'è stato per i figli. Io lavoro da 40 anni con gli leucemici e so bene che la domanda sempre presente, che sia cosciente o inconsapevole, ma c'è sempre, nella malattia è che occorre condividere, in fondo la domanda del meeting. È quella di un significato, di ciò che accade. Perché e perché proprio a me. La mancanza più grande è quella del significato per il nostro cuore. Perché finché non si intuisce, non si sperimenta, almeno inizialmente, che quello che capita e per la nostra maturazione non c'è una cura che possa bastare. Non si è ancora arrivati alla cura. Perciò ringrazio Mario che ha permesso che il libro rinascesse e nel contesto del Centro Nemo e con la bella edizione curata da Guido Orsi e illustrata dalle tavole fatte da Marie-Michelle Ponset in amicizia a Giovanna. E i nuovi brevi commenti che Giovanna ha fortemente voluto aggiungere alla prima fiaba, proprio in merito all'esperienza attuale, che sono stati proprio faticosi perché li ha dettati con gli occhi, lettera per lettera, tramite la tabella di Plexiglass. Il libro è una spiegazione al figlio e a noi, di noi stessi, in una parabola che giustamente Rodolfo ha chiamato l'offerta di una paternità al figlio, di una strada da percorrere come il cavaliere che abbiamo sentito. E credo che ognuno di noi, rispetto al significato della vita, è figlio e bisognoso di una strada. Per questo chiederei ora al professor Rodolfo Balzarotti, che tra l'altro è un grande amico della Giovanna, questa cosa in questo momento più principale, ma è anche il direttore scientifico della Fondazione William Condon, di introdurci a scoprire le tappe, almeno sommariamente, di questa fiabano e chiederei a voi di ascoltare queste in chiave personale, lasciandosi interrogare sulla propria vita da questo percorso che Giovanna propone al figlio e invita noi a fare. Grazie, grazie Paola. Allora naturalmente io sono qui perché in questo incontro sono protagonisti anzitutto coloro che vivono la malattia, o perché loro stessi malati, o perché implicati direttamente nell'assistenza, nella cura, nella compagnia. E io quindi sono qui soprattutto come amico di Giovanna, cercando di darvi un'idea di quello che Giovanna ha voluto comunicare con questa favola, se mettiamo magari le immagini, facciamo comparire le immagini, questo è il titolo del nostro incontro, è l'ultima pagina che Giovanna ha voluto scrivere a termine del suo libro. Questo è il libro, la copertina, ricordava Paola che questo libro da budista editoriale è nato esattamente nel meeting scorso, è un miracolo che oggi ne parliamo come un libro che ormai già ha circolato ampiamente. una favola per bambini e una parabola per adulti, come tutte le vere favole. Io lo faccio anche per testimoniare quello che la Giovanna ha fatto a me in questi anni della sua malattia, anzitutto lo stupore che a due eventi tragici della sua vita le abbia risposto con un gesto creativo, espressivo, prima fare la favola, poi rifarla in una forma più bella ancora quando si è ammalata. Due fatti che hanno segnato la sua vita tragicamente, si direbbe secondo il mondo, ma io credo che solo dall'abbondanza del cuore, anche di un cuore ferito, cioè da una gratitudine, può nascere un gesto espressivo di questo genere. E poi l'altro fatto stupefacente è che, come tanti altri andando a visitarla, stando qualche ora insieme a lei, abbastanza regolarmente, e guardandola così terribilmente, ingiustamente in ferma, verrebbe da dire, ho cominciato a sperimentare io uno strano tipo di salute. Non so dirlo altrimenti, quando torno, tornando da casa sua, è come se qualcosa mi avesse ricostituito, come se fossi guarito da una malattia. Ma che malattia? Papa Francesco nell'ultima enciclica dà una definizione bellissima, l'ho trovata proprio casualmente, dice, libero, guarito da quella ansietà malata che ci rende superficiali, aggressivi e consumisti sfrenati. Cioè da quel modo di vivere alla mancanza, visto che non ci lascia lo spazio, mai, di guardarla, questa mancanza, di capire che cos'è questa mancanza e di che cos'è questa mancanza. Ma magari dirò qualcosa. Allora, dunque, una favola, una classica favola, di una storia di un principe che trova moglie, una principessa, Lutinai, il nome del principe, Gineron è il nome della sua sposa. Nelle iniziali dei nomi chiaramente c'è un riferimento alle persone della famiglia. Lutinai vuol dire Lodovico, richiama Lodovico, il marito tragicamente morto tanti anni fa, e Gineron, Giovanna, evidentemente. Ma per entrare in questa favola sono preziose anche le nuove tavole che Marie-Michelle Ponset ha realizzato. Perché? Perché dico che è come se, avendo lei scelto alcuni passaggi particolari da illustrare, ci aiuta come a punteggiare, a fare delle punteggiature, andare dentro e accogliere la vibrazione del senso di questa favola, proprio la vibrazione musicale. Non sono illustrazioni in senso classico, nemmeno però sono meri giochi di forme e colori. Si intuisce anche un riferimento. Questo lo vediamo nella tavola due, che adesso vi ho messo sullo schermo, che si rivisce all'incontro iniziale dei due protagonisti, Lutinai, il principe e Gineron, la sua futura sposa, la prima dichiarazione, la prima conoscenza. L'immagine porta un titolo che è riferito al testo e in questo caso è, la didascalia dice il mio nome è Gineron, disse la fanciulla, che significa fiore in inverno. Infatti vedete che questa tavola c'è un gioco di forme piuttosto squadrate, soprattutto sulla sinistra, prevalentemente blu, rosso, bruno, che vagamente possono ricordare delle figure, delle figure forti, maschili, squadrate, nella quale come incastonata, come un gioiello nella parte destra, questa sagoma evidentemente femminile, dove invece i colori diventano di un rosa giallo, come una finestra quasi che si apre, di luce che si apre dentro, dentro questa composizione. Appunto il fiore d'inverno, ci fa percepire il profumo di questo fiore d'inverno, questo fiore paradossale che ha voluto Giovanna indicare. Vi faccio vedere, questa è la tavola quattro, che invece si riferisce ai festeggiamenti per le nozze dei due principi. Ma la tavola su cui mi vorrei soffermare è la numero sei. Si riferisce a un episodio del tutto, molto singolare, apparentemente secondario. Lutinai e Gineron hanno realizzato il loro sogno d'amore, sono sposi felici, il regno è felice, è nata anche la prima figlia, la prima di una lunga serie, i sei figli esattamente come sei sono i figli di Giovanna. Tutto è pace e serenità, ma un giorno, in uno dei viaggi di perlustrazione nelle terre del suo regno, Lutinai scopre un luogo che non ha mai visto. scoprì un angolo del regno che gli era sconosciuto. E siamo su una riva di un fiume, in un luogo deserto, di una strana pace, che lascia intravedere sull'altra sponda un mondo misterioso inaccessibile. Vado oltre, per non prendere troppo tempo, ho riassunto questa prima parte, dove descrive questo luogo incantato. In quel luogo regnava una strana pace che il principe non aveva mai avvertito altrove. Dovunque girasse lo sguardo, però, non vedeva né case né uomini. Avvicinandosi alla riva, intravedeva stento l'altra sponda, offuscata da una leggera nebbiolina. Ma di tanto in tanto, per attimi brevissimi, al diradarsi della foschia, Lutinai riusciva a distinguere i contorni di una terra sconosciuta che intuiva, misteriosa e bellissima, e che lo attraeva in modo irresistibile. Esterefatto si domandò come fosse possibile che oltre il fiume esistesse un posto così, e soprattutto che non se ne fosse mai accorto prima. Si guardò in giro per cercare un ponte e un passaggio all'altra sponda, niente, nemmeno una barca, e le acque erano decisamente troppo profonde per consentire il guado. Come fare a raggiungerla? Non ebbe tempo per cercare. La risposta viene chiamato, deve tornare al palazzo. Beh, mi pare molto profondo. Questo episodio è emblematico, dicevo, perché Lutinai scopre una zona sconosciuta e inaccessibile del proprio regno. Cioè, come dire, nella nostra terra, nella nostra casa, in noi stessi, c'è qualcosa che non ci appartiene, o piuttosto è qualcosa a cui noi apparteniamo. Noi non siamo padroni in casa nostra. In questo modo, la migliore delle fortune non arriva a chiudere e a compiere la nostra vita. Interessante che proprio nel momento della felicità, ancora non si è scatenato il dramma, c'è questa specie di finestra su un mistero. E in effetti è come se questo episodio, apparentemente secondario, ci fosse la matrice e la chiave di tutti i successivi sviluppi della storia, del destino imprevisto e drammatico, doloroso ma anche glorioso, di Lutinai e Gineron. Sarà infatti proprio sulla riva di quel fiume, che si compirà la vocazione, diciamo così, la missione e la vocazione del protagonista e si scoprirà di cosa è l'arco di luce. Non dico di più perché avete diritto di scoprirlo per conto vostro, leggendo il libro magari. Passo a un'altra tavola, ed è l'ultima che commento, poi Paola mi bastonerà, mi dirà quando. È la numero otto e notate la differenza sul piano cromatico rispetto alle precedenti, la presenza di colori più neutri e spenti, le forme sottili e spigolose, come schegge di pietre incastrate tra di loro, che pure evocano delle sagome umane. Gineron si è ammalata di una misteriosa malattia, una sorta di spegnimento della vita. Cito, il cuore di Gineron era diventato come di ghiaccio e niente riusciva a rompere il guscio freddo e gelido che sembrava attanagliarlo. A parte mi vengono la pelle d'occa a pensare che quasi vent'anni prima Giovanna abbia come in questa fiaba quasi annunciato profeticamente la sua malattia. L'altra cosa che mi colpisce è che lei immagina che questa malattia abbia spento non solo la vita in lei ma tutto nel suo regno, tutto il regno deperisce, tutti sono tristi, nessuno più parla con l'altro, c'è una generale spegnimento del cuore della gente. La dimensione, la malattia è una dimensione cosmica. Allora qui mi permetto di fare una sorta di, quella che potrebbe sembrare una divagazione, ma vedete che non lo è. Perché è curioso che Giovanna, non so se consapevolmente, ma non credo, è quindi ancora più interessante, ha qui scovato, ripescato, un grande tema della favolistica, della narrativa occidentale, che ci è stata, rieditiamo dal Medioevo, una specie di archetipo come dicono gli studiosi, e la figura, la leggenda del re pescatore, che è entrata nel ciclo di Parsifal, nelle varie versioni di questa vicenda, ma io la voglio qui rievocare, citarla, nel commento che ne ha fatto Mircea Eliade, grande studioso delle religioni. E appunto, Dio dice, si tratta di un particolare, della leggenda di Parsifal e del re pescatore. Si ricorda che il vecchio re, detentore del segreto del Graal, cioè poi quello che è stato interpretato come il calice che conteneva al sangue di Cristo in croce, era paralizzato da una malattia misteriosa, si parla di paralisi. Non era del resto il solo a soffrire, intorno a lui tutto cadeva in rovina, andava in disfacimento al palazzo, le torri, i giardini, gli animali non si moltiplicavano più, gli alberi non davano più frutti, le sorgenti si prosciugavano, numerosi medici lo avevano cercato di curare, il re, pescatore, senza il minimo risultato. Giorno e notte arrivavano cavalieri, eccetera, eccetera, un unico cavaliere, povero, sconosciuto e perfino un po' ridicolo, si permise di ignorare il cerimoniale, le buone maniere, cioè rompe gli schemi, rompe le formalità, verso il re, e si diresse direttamente verso il re senza alcun preambolo gli chiese, dov'è il Graal? In quell'istante tutto si trasformò, il re si alza dal suo letto di sofferenza, l'acqua riprende a scorrere nei fiumi, nelle fontane, la vegetazione rinasce, il castello è misteriosamente restaurato. Allora, le poche parole pronunciate da Parsifal erano bastate per rigenerare la natura tutta, quelle poche parole tuttavia costituivano la questione centrale, dove si trovava il reale per eccellenza, il sacro, il centro della vita e la fonte dell'immortalità. Dove si trovava il sacro Graal? Conclude Eliade, questo piccolo dettaglio di un grandioso mito europeo ci rivela almeno un lato trascurato del centro, del simbolismo del centro. Non solo esiste un'intima solidarietà tra la vita universale e la salvezza dell'uomo, ma basta porsi il problema della salvezza, basta porsi il problema centrale, ovvero il problema, perché la vita cosmica si rigenere in perpetuo. Che spesso la morte, come questo frammento mitico sempre indicare, non è che il risultato della nostra indifferenza di fronte all'immortalità, potremmo dire di fronte all'infinito. Allora, perché porre semplicemente la domanda fondamentale fa rinascere la vita e la natura. E come lo dicevo all'inizio, mi avvicino alla fine, c'è un modo di vivere la mancanza, le nostre mancanze, la mancanza costitutiva di cui siamo fatti, che vorrebbe negarla e cancellarla. E questa è la malattia mortale. Non volere sapere di lei, di che cos'è questa mancanza. Nell'incontro tra i filosofi che si è svolto i giorni scorso, è emersa una conclusione molto interessante. È stato detto una cosa importante, che paradossalmente la nostra mancanza è spesso come paradossalmente ingombrata da un troppo. Non possiamo parlare della mancanza senza parlare del troppo, di cui dobbiamo spogliarci, o meglio, questo sarebbe moralistico, ma accettare di essere come spogliati per guardare finalmente la nostra vera ricchezza, che è questa mancanza e di quel qualcosa, di quella presenza che dietro questa mancanza si nasconde e si rivela. Il troppo della nostra pretesa e della nostro attaccamento malato a noi stessi e alle cose. Chiudo con un'ultimissima breve citazione, ha un significato questa citazione perché mi venne in mente di scriverla su un biglietto che scrivemmo quando una volta, tanti anni fa, ma Giovanna non era ancora malata, mandammo insieme un regalo per il suo compleanno. E allora questa frase che io trago da quel libro aureo che è Il cristianesimo com'è di Clive Staple-Lewis, grande scrittore cristiano e grande affabulatore, scrive in questo testo, è una citazione molto breve, ma la storia di Giovanna mi sembra... Immaginate di essere una casa, scusate c'è in una casa, ma è una casa, una casa vivente, cioè io sono una casa vivente. E viene Dio a ricostruirla. Dapprima forse capite quel che sta facendo, aggiusta le tubature, ripara le creppe nel tetto e così via. Sono lavori che andavano fatti, lo sapevate, e non siete sorpresi. Ma ecco che egli comincia a mettere la casa sotto sopra, a sconquassarla in modo ripilante e apparentemente in consulto, dove vuole andare a parare. La spiegazione è che egli sta costruendo una casa tutta diversa da quella che avevate in mente voi, creando qui un'ala nuova, la aggiungendo un piano, innalzando torri, aprendo cortili. Pensavate di diventare una casa a modo, ma lui sta costruendo un palazzo, intende venirci ad abitare, a vivere lui stesso. Grazie. Grazie Rodolfo, ci hai proprio aiutato a riportare la fiaba nel cuore delle risposte alla domanda del meeting e penso che tutti abbiano voglia di rileggersi il libro, se l'han già letto. Ma come abbiamo imparato sempre a questo meeting, cioè vedere che questa promessa è vera, bisogna vederne i frutti, bisogna verificarla, abbiamo imparato, no? Ancora Bluac ci dà una chiave di lettura. Un cuore senza dolore è come un mondo senza rivelazione. Vede Dio solo al tenue chiarore del crepuscolo. Verificare questo, nella mia esperienza, dico solo due cose nella mia esperienza con Giovanna. La prima è che quella sedia e quel letto sono sempre il cuore del mondo. Anni fa è stato il primo posto dove sono stata invitata a pregare per la Siria, venendo via dalla Giovanna. Giovanna. E la seconda, di cui già accennava adesso Rodolfo, è che comunque si arrivi dalla Giovanna, con qualunque pensiero o problema, quando esci non sai perché, ma devi riconoscere che ci stavi bene. Per qualcosa che lì accade, che lì c'è, questa presenza misteriosa forse, che abita la casa. Che il mondo irride, ma che rapire non può. Che è quella che fa battere il cuore di ciascuno di noi quando incontra una cosa vera fino in fondo. Non facile, certo, ma profondamente corrispondente alle esigenze di ognuno, alla mancanza di ognuno. Sta poi a ciascuno scegliere se stare al livello a cui ci invita, in ogni istante, intenso, o fuggire nella usuale distrazione. Ogni volta hai davanti un io non sperperato, a differenza della nostra vita frettolosa. Così Ragio continua a rincrociare la mia vita tanto che siamo qui oggi. Come se fosse lei fedele alla vita nostra, più amica di tanti amici, proprio per il suo sì quotidiano. E ricordarla nelle giornate vorticose, come dicevi anche adesso, è il grande aiuto a vivere e a non sperperare l'istante presente, come sempre scivoliamo a fare. Però questa verifica abbiamo chiesto a Silvia Spagnola, in rossi, di raccontarcela. Lei è moglie di Ugo, che è qui con noi e che è ammalato di SLA. Dici Silvia come puoi verificare i frutti di questa chiamata. Buongiorno a tutti, scusate la voce ma sono ammalata. Allora, grazie. Vi racconto un pochino quella che è l'esperienza di vita insieme con Ugo, perché secondo me i fatti più di qualsiasi altra cosa possono raccontare e dare una risposta a quello che diceva adesso Paola. Io prima di tutto sono moglie di Ugo. Noi ci siamo conosciuti nel 2003 e ci siamo sposati nel 2005. Eravamo già belli maturi, quindi non abbiamo avuto bisogno di star lì a pensarla troppo a lungo. Anzi, Ugo solo dopo 12 giorni mi ha chiesto di sposarlo, per cui un uomo è sempre stato molto deciso. Io ripensando a noi non posso non ripensare a tutte le grazie che hanno costellato la nostra vita, la mia nello specifico. Posso parlare per tutti e due, ma vi racconto nello specifico la mia dopo che ci siamo conosciuti. Ieri stavo pensando proprio a questa cosa. Che cosa vuol dire grazia? Perché di fatto non è un qualcosa di astratto, ma è un fatto che accade nella vita di ciascuno e che lo trasforma per sempre da quel momento. Questa è la grazia. E quindi ci sono stati dei fatti, delle persone, degli accadimenti che nella nostra vita mano a mano l'hanno trasformata in un cammino, che è quello di tutti anche. La prima che ricordo sovente riguarda il periodo in cui eravamo ancora fidanzati. in una notte, Ugo viaggiava per lavoro in Cina, al termine di una delle nostre telefonate intercontinentali, appunto per me nel cuore della notte, per lui all'alba, insomma cercavamo di incrociare questi orari assurdi. Al termine della chiamata ho avuto proprio la coscienza che Dio aveva creato Ugo per me. Addirittura annullando quello che può essere il raziocinio normale del tempo e dello spazio, ho detto, ieri l'ha creato per me, così l'ha fatto. Perché di tutto quello che c'era nel rapporto con lui mi veniva chiesta tutta la mia verità, che era faticosissima. Infatti dico sempre che tirava fuori il peggio di me, perché era sempre uno scarto continuo tra ciò che pensavo io di me stessa e ciò che lui voleva sapere di me, perché mi diceva io voglio sapere chi tu sei, non chi vuoi sembrare di essere, ma chi tu sei. Quindi è stato un lavoro fin da subito con lui, che però è stata una cosa meravigliosa che si è sviluppata nel tempo e che ha portato a questa altra grazia che è stato il giorno del matrimonio, perché siamo arrivati entrambi con una coscienza di certezza del passo che stavamo facendo, perché per entrambi eravamo stati destinati da un altro a farci compagnia in questo percorso terreno. E quindi il dire di sì a Ugo, con la formula che tutti conoscono e che molti di voi che si sono sposati hanno recitato quel giorno, esserti fedele sempre nella salute e nella malattia, vi assicuro che ero cosciente fino in fondo di quello che stavo dicendo. Appunto in un modo misteriosamente profetico, uno si trova a dire certe cose che non desidera in fondo per sé, ma che poi quando accadono dice vabbè ti avevo già detto di sì, quindi stiamo a questo gioco, che non è appunto, è proprio il disegno di Dio. Quindi è stato appunto profetico perché un anno dopo, vi faccio vedere alcune fotografie per aiutarvi così a seguire un po' la nostra vicenda. Un anno e mezzo dopo il matrimonio è nato Riccardo, che è stata un'altra grazia enorme, perché i figli sono delle grazie stupefacenti. Bisognerebbe aprire qui veramente una parentesi enorme, ma non ne abbiamo il tempo. Ma dopo un anno che è nato Riccardo, nel febbraio del 2009, Ugo ha cominciato ad avere qualche problema di salute, semplicissimo, di instabilità, affaticamento, che abbiamo legato inizialmente a tutta una serie di altre situazioni che stavamo vivendo in quel momento. E poi invece a giugno di quello stesso anno, del 2008, abbiamo avuto la diagnosi certa che quei sintomi erano legati a questa malattia degenerativa veramente pesantemente invalidante, che si chiama sclerosi laterale amiotrofica, che ha portato Ugo in brevissimo tempo ad una situazione di immobilità. Tant'è che la nascita della Letizia a settembre del 2009, mi ricordo questo fatto che è di per sé un po' assurdo. Siamo usciti dall'ospedale, tre giorni dal parto come normalmente accade, Ugo teneva in braccio Letizia e io spingevo la sua carrozzina perché il parcheggio era troppo distante dal reparto e lui non ce la faceva. Quindi sembrava il primo uomo ad aver partorito perché non si è mai visto, capito? Uno esce dalla maternità. Però cosa è successo? Che dopo la nascita di Letizia all'inizio di settembre, già il primo di novembre Ugo è stato ricoverato per la prima insufficienza respiratoria, per un mese al centro Nemo, appunto, che abbiamo vicino a casa. E' uscito da questo primo mese di ricovero, che anche lì raccontarlo è impressionante perché io mi alternavo tra mia madre che dovrebbe essere presente, se lo ricorda benissimo, ospedale la mattina, popate della Letizia, asilo nido di Riccardo, ospedale dar da mangiare a Ugo, ritornava a casa la popata della Letizia, andava a prendere Riccardo, ritornava a casa l'altra popata, cioè una cosa che dici da andare fuori di testa, letteralmente. E' tornato a casa Ugo in sedia a rotelle fisso, un ventilatore al naso, perché appunto non aveva più la capacità vitale sufficiente, e il badante. Altra novità, perché le malattie spesso si portano dietro anche questa necessità di dover rinunciare a quello che si pensa essere la propria vita, perché si comincia a condividerla, anche con estranei, inevitabilmente, perché io non avrei assolutamente potuto vivere una esistenza non normale, ma per sopravvivere proprio avevo bisogno di un aiuto. Quindi c'è stata questa grande novità, però questo che cosa ha portato? a rendersi conto che la vita può diventare veramente vera quando si smette di pensare la propria, che è un assurdo, però è così, perché abbiamo aperto di fatto casa nostra a tutta una serie di di aiuti che sono arrivati misteriosamente, ma con infinita gratitudine, molti dei quali continuano ancora oggi, a distanza di sei anni, con una fedeltà veramente commovente per quel che mi riguarda, perché non è spiegabile questa cosa, ad avere tantissimi amici che ci hanno aiutati nei modi più disparati, da chi veniva ad aiutarmi la sera per aiutare Ugo a mangiare, perché dopo il ricovero di febbraio del 2010, quindi di lì a poco ha smesso di muovere praticamente anche le braccia, quindi nel giro di otto mesi era immobile e quindi svezzavo Riccardo alla tavola e tizia dovevo andare da mangiare a Ugo, quindi io dove spesso saltavo la cena, perché non avevo il tempo tecnico di mangiare, allora gli amici sono venuti in supporto e hanno organizzato questa forma di catering spinto, per cui venivano lì in un minimo di due e un massimo di cinque a preparare, portavano la cena pronta, preparavano la tavola, sparecchiavano, davano da mangiare ai bambini, mi aiutavano per metterli a letto, aiutavano con Ugo, per cui casa nostra ha smesso di essere nostra, appena comprata, cioè per cui dici veramente c'è uno scarto grande, però appunto con tutto l'esercizio che avevo fatto con Ugo inizialmente su quello che valeva veramente la pena, in un qualche modo è stato semplice. Cosa è successo? Che però nel settembre del 2012 è stato un periodo che ricordo particolarmente bene, perché io mi sono ritrovata comunque in un altro di quei periodi in cui sembrava che la realtà mi sopraffacesse, perché non riuscivo più a, usiamo questo termine, gestire niente. Avevo tantissime cose su cui mettere la testa e non riuscivo a cavare un ragno dal buco, cioè una cosa che stava andando veramente, veramente quella volta fuori, me lo sono, mi sono resa conto. Cosa è successo? Ho fatto una telefonata a un carissimo amico e gli ho chiesto mi devi spiegare perché Gesù non mi basta, perché lui ci dice io sarò con voi fino alla fine del mondo e io oggi allora non ho più fede, perché dico non riesco a star di fronte a questa quotidianità, che comunque è qualcosa che un altro ha scelto per me ed è una certezza che un altro mi vuol bene, non può chiedermi una cosa contro di me, allora vuol dire che ho perso la fede. E allora è stato impressionante perché, come diceva prima anche Rodolfo, il mettere a tema la domanda su di sé della propria mancanza e del brano che hai letto, immediatamente fa rifiorire la vita. Non è cambiato niente nella mia esistenza, è rimasto tutto, anzi molto più faticoso, però chiarire a me stessa il significato che aveva tutto quello che ci veniva chiesto ha cambiato tutto, perché oggi posso dire che vivere affidati è la cosa più grande che ci possa essere, che sprigiona la libertà in una maniera impressionante. Per cui c'è qualcuno dei miei amici che mi chiama Wonder Woman, però il fatto di essere ammalata oggi fa vedere che non è così, sono umanissima come tutti, ma sapere che tutto è nelle mani di un altro che compie il suo disegno in un modo misteriosissimo, però il mio tema è che sono affari suoi, quello che vorrà fare, come lo vorrà fare, perché ha deciso di farlo così, insomma non lo so, ma i frutti che abbiamo visto in questi anni sono talmente tanti e che vediamo quotidianamente, perché vi assicuro che è miracoloso che noi possiamo essere qua oggi, perché non era assolutamente scontato, io quando Paola mi ha chiesto di poter venire qui, io gli ho detto sì, pensando a Dio piacendo, perché non ne ho proprio idea se saremo ancora qui, perché non veramente è stato... anche faticoso, vi do solo la chicca della giornata, stamattina la sveglia un quarto alle sette per poter essere qui alle 10.45 in ritardo, per cui funziona così, perché solo raccontare la nostra quotidianità ci vorrebbero tre ore, comunque. Quindi le cose che si sono sviluppate, giusto per accorciare proprio di tutta la meraviglia che noi abbiamo visto in questi anni, dal nostro amico che ha deciso di entrare nel gruppo adulto e viene da Ugo e dice guarda la tua amicizia per me è stata fondamentale in questa scelta. Gli amici che sono fidanzati e poi viene lì il primo giorno e mi dice sai ho chiesto alla mia amorosa di sposarmi perché ho capito guardando voi che il sì per sempre è possibile. Sono cose che ti fanno tremare i polsi che dici è veramente un altro che sta operando attraverso di noi e quindi l'unica cosa che possiamo fare è metterci a sua disposizione, mi viene da dire, appunto rimanere affidati a lui. E proprio per questo motivo qua abbiamo recentemente alla fine di maggio festeggiato i nostri dieci anni di matrimonio e io ho intensamente voluto festeggiarli. Vediamo, ah queste sono vite, scene di vita familiare quando Ugo, perché abbiamo due bambini, cioè sì l'ho detto abbiamo due bambini, che però vivono in rapporto con il papà nel modo più naturale possibile per cui giocava dandogli il ciuccio, la letizia giocava con il ventilatore perché sentiva l'aria che usciva e questo qui invece è adesso alla fine di maggio che abbiamo festeggiato il nostro decimo anniversario di matrimonio e perché abbiamo voluto ridire di sì a quel destino buono che ci ha voluto insieme e grazie ad uno strumento quasi futuristico che legge le onde cerebrali di Ugo e gli permette di interfacciarsi con un software, gli permette di dire sì, abbiamo potuto rinnovare le nostre promesse, effettivamente io ho risposato Ugo perché gli voglio un bene infini molto più bene oggi, ma molto più bene oggi di quando l'ho sposato, ma voglio bene a lui, non a lui ammalato, è il suo io che mi interessa, come sono certa che è il mio io, il mio personale a cui lui vuol bene, con il quale lui ha una pazienza infinita perché vi assicuro gli errori che si fanno con le persone in una condizione così critica come quella di Ugo sono infiniti ogni giorno, quindi è stato bello per me quando gli ho chiesto ti va di rifesteggiare il matrimonio e ti va di ridire le promesse, mi ha detto sì allora dico cavoli allora mi vuoi ancora bene, è una roba bellissima e questa cosa qui ha portato ad una festa che non abbiamo organizzato noi ma i nostri amici dove eravamo, adesso è un po' sfocata, però eravamo in 180, più quasi del matrimonio che abbiamo fatto dieci anni fa allora per concludere volevo dire che il nostro, cioè che il bene che io voglio a Ugo e che si è rimanifestato con questa promessa nuovamente è una cosa che io sinceramente desidero per ciascuno di voi, che ciascuno di voi possa sperimentare nella propria vita senza la necessità di dover passare attraverso una croce pesante come quella che stiamo portando noi perché non siamo bravi, non siamo particolari, ma stiamo semplicemente rispondendo alla chiamata che è stata fatta a noi quindi vi rilancio questa cosa sulla vostra vita perché ognuno di voi ridicendo sì a ciò a cui chiamato quotidianamente può percorrere il proprio cammino di santità ed è per questo che io chiedo di pregare per noi affinché la grazia non ci abbandoni mai che è l'unica cosa che può accompagnare in questo cammino oltre a chiedervi, siete tanti, per cui magari questa volta Dio ascolta la guarigione di Ugo perché la gloria di Dio si possa manifestare agli occhi di tutto il mondo proprio per questo basta grazie è difficile parlare dopo una testimonianza come quella di Ugo e Silvia ma vi chiedo di fare ancora un passaggio perché abbiamo voluto questo incontro al meeting come associazione medicina e persona e uno potrebbe chiedersi perché ma perché medicina e persona cerca di custodire in un tempo di evidenze scadute il legame che deve rimanere fra la medicina e la persona di cui abbiamo avuto una bella testimonianza e perché pensiamo proprio che in questo mondo da soli è difficile quindi bisogna sostenersi e aiutarsi a giudicare le cose a costruire le cose tenendo conto che senza un nesso così chiaro fino alla domanda di significato alla domanda di che mancanza non c'è cura adeguata non c'è cura che basti e invece di costruire luoghi della cura si costruiscono luoghi delle prestazioni che all'uomo non bastano per questo abbiamo chiesto a Giorgio Cerati psichiatra di parlarci un attimo del rapporto di cura grazie Paola quindi dopo la narrazione di una testimonianza appunto è difficile passare alla riflessione ma ci proviamo una riflessione che ho cercato di organizzare attorno a alcune parole chiave che per me rappresentano un po' il condensato di esperienze che abbiamo condiviso e del lavoro anche che abbiamo sviluppato in questi anni un paio di questioni anzitutto per introdurci l'esperienza della malattia ha a che fare con la conoscenza cioè la malattia comporta un'esperienza conoscitiva oltre che emotiva e di sofferenza fisica che è rintracciabile nel suo accadere nel presente e inoltre esiste un problema di senso nell'esperienza di malattia che coinvolga sia il paziente sia chi l'assiste abbiamo detto esperienza come possiamo intendere questa parola a ben vedere ciò che qualifica un'esperienza più che l'accumulo di informazioni o di sensazioni è essenzialmente un incontro cioè qualcosa di nuovo di altro di inatteso che l'avvia che avvia l'esperienza stessa qui in particolare lo abbiamo visto l'incontro con un disturbo con la sofferenza quindi esperire la malattia possiamo forse dire è il frutto umano vissuto nell'io con tutto il suo carico emotivo dell'incontro e della relazione della persona con la malattia con le circostanze con i rapporti con i bisogni con i limiti connessi a questa condizione d'altra parte l'esperienza del limite caratterizza proprio la condizione umana come tale limite appunto cioè mancanza quanto è reale questo titolo del meeting no? mancanza cioè il bisogno che l'uomo sente al punto che potrei dire di me non solo che ho bisogno ma forse più propriamente che sono un bisogno e questo si riflette in modo anche molto significativo a mio giudizio nel linguaggio che infatti usa dire molto semplicemente sono depresso sono ansioso piuttosto che o la depressione o la nevrosi ma anche uscendo dalla psichiatria allo stesso modo per chi è affetto dal diabete dall'ipertensione da un tumore si parla preferibilmente di un paziente diabetico di un paziente iperteso di un paziente oncologico a tal punto il rapporto persona-malattia si fa stringente allora pur affermando l'indiscutibile efficacia e potere della medicina con tutti i suoi progressi e strumenti diagnostico-terapeutici il primo protagonista dell'azione sanitaria diciamolo è il soggetto ma in pratica che posto occupano il soggetto e la relazione tra soggetti nella cura quanto questo è un aspetto sottovalutato nel lavoro clinico quanto occorre invece tenere conto dell'esperienza del soggetto ascoltarla saperla leggere nella specificità dei bisogni che presenta per poter svolgere un percorso di cura buono un percorso di cura allora capace di far emergere le potenzialità e le risorse dei pazienti di utilizzarle e di integrarle con quelle degli operatori della famiglia del contesto in una parola della rete sociale una vera alleanza noi parliamo nel nostro lavoro di un'alleanza terapeutica un'alleanza che valorizzi i protagonisti le persone ma con i loro legami non isolate anzitutto con le famiglie sempre come abbiamo visto direttamente coinvolte attive in grado di proporsi in modo originale abbiamo visto anche proprio da questa testimonianza diretta questa cosa a volte anche capaci di organizzarsi in modo autonomo penso a tante associazioni di familiari che sostengono e che propongono delle delle iniziative penso all'associazione diversamente per il nostro campo ma mi sembra che anche nel campo delle malattie degenerative di cui parliamo questo sostegno anche organizzato è molto importante soggetto che fa pensare anche alla parolina umanizzazione ecco troppo si parla di umanizzare le strutture sanitarie ma bastano forse delle camere più confortevoli o non occorre invece un umanesimo della cura parola presa in prestito anche dai nostri vescovi che ne parleranno pure al convegno di Firenze cioè umanesimo della cura che per me significa partire dal recupero dell'umanità dell'esperienza di malattia dalla domanda di significato che le persone si pongono dal che senso ha quello che mi sta accadendo che senso ha quello che ci sta accadendo senza censurarle d'altra parte come si potrebbe curare senza apertura all'altro senza apertura all'essere dell'altro alla sua domanda di senso ecco per questo un'altra parola che si usa molto la personalizzazione della cura a mio giudizio inizia da qui e oggi non è la frontiera della ricerca di un domani anche se l'epigenetica ci prospetta delle mirabilie da questo punto di vista alcune già reali e comunque l'esperienza di malattia opera un cambiamento in chi la vive è veramente un incontro un incontro che genera una nuova conoscenza adesso passa da qui credo la ricerca del bene di cui al titolo di questa tavola rotonda per il paziente e per l'operatore per esempio Gruppmann anni fa un onco ematologo americano scrisse il libro Anatomia della speranza in cui ha studiato negli esiti dei suoi pazienti il nesso tra la speranza e la cura un lavoro che apre che ha aperto un'immensa finestra sul ruolo dei fattori umani che molti chiamano fattori extraclinici secondo me in modo un po' improprio perché in realtà fanno profondamente parte del lavoro clinico come vedremo sul ruolo dei fattori umani in medicina un'esplorazione che continua e che riscatta che la riscatta che riscatta la medicina stessa da visioni eccessivamente ristrette e meccanicistiche un'esplorazione che è svolta da parte di vari autori studiosi professionisti cui medicina e persona credo dà il suo contributo non indifferente proprio nella riscoperta dei fattori umani e umanistici nella professione sanitaria d'altra parte quanti nostri colleghi laici o sedicenti non credenti si richiamano a quella che Benedetto sedicesimo chiamò la speranza affidabile quanto si richiamano a questa speranza nell'affrontare i problemi dolori sofferenze sofferenze che si possono lenire ma non evitare e certamente che si debbono curare qui si apre un fronte terapia cura assistenza riabilitazione sino alle prospettive o al desiderio della guarigione ecco sono temi cruciali non c'è tempo per parlarne ma certamente sottendono un interrogativo su quest'altra parola chiave appunto sulla parola cambiamento allora chiediamoci non è forse riduttivo domandando la guarigione quando domandiamo la guarigione esigere di voler tornare come prima quelli di prima è una domanda certamente legittima del tutto legittima ma forse solo apparentemente è ovvia perché in realtà è una domanda a volte impossibile specialmente nelle sempre più frequenti malattie a evoluzione cronica perché questo obiettivo rischia di prescindere dalla realtà del resto il tempo e la realtà sono due concetti fondamentali in queste condizioni di grave e prolungata sofferenza allora come abbiamo visto la testimonianza di Silvia è qui a dircelo se da un lato incombe il peso di sintomi gravosi dall'altro proprio in questa condizione si può creare uno spazio all'accadere di una scoperta nuova quella di potersi guardare diversamente e di potersi comprendere più profondamente spalancando anche orizzonti di desiderio imprevisti e imprevedibili ne scaturisce allora una positività che aiuta la vita del paziente al di là delle aspettative un cambiamento quindi un bene di cui la famiglia abbiamo visto anche questo è pienamente partecipe arriviamo all'ultima parola una positività che però non può non coinvolgere il rapporto con il medico e con l'equipo curante quindi l'incontro non è solo con la malattia ma è l'incontro con l'altro la malattia che rappresenta un'occasione in cui avviene un incontro tra la persona malata e il personale medico e di assistenza cioè l'esperienza di un percorso di conoscenza condivisa pensate a quanto è vero che l'io nasce continuamente da un incontro sembra che parliamo di fragilità ma questo è realmente un pensiero forte due brevi citazioni l'altro nasce dentro di noi continuamente e la relazione attraverso i gesti e le parole con il paziente all'interno dell'equip mantiene viva l'idea che ciascuno ha dentro di sé un fine la propria realizzazione nelle situazioni limite solo l'amicizia aiuta a esistere cioè quando l'altro esiste in noi più di noi stessi questa riflette l'esperienza di un grande psicoanalista che ha partecipato ai nostri momenti di lavoro che ce ne richiamo un'altra di un altro grande medico che ha detto la carità è che tu ti commuovi nel rapporto con l'altro quando dai quel minuto in più quando dai qualcosa che non è richiesto la cura l'assistenza è ospitalità dell'altro dentro di sé il malato ha bisogno che ci sia un movimento insieme a lui la commozione è questo movimento insieme a lui ecco carità non si tratta però di elemosina ma di un dono anche gli autori laici sono molto attenti a questo aspetto di un dono il dono non anonimo un dono non è anonimo lo porta ognuno di noi il dono non anonimo del nostro tempo capace quindi come dono di imparare dal rapporto gratuito con l'altro un mio grande maestro diceva il paziente è il nostro insegnante e di attivare in questo rapporto gratuito una reciprocità il dono presuppone una reciprocità cioè di generare di poter avere in cambio la fiducia che è la base della cura l'esperienza del cambiamento di un bene anche per chi opera in sanità quindi quando abbiamo bisogno noi stessi di mantenere la motivazione del nostro lavoro di non diventare quanto ne abbiamo bisogno cinici e a nostra volta cronici di una formazione continua che alimenti la nostra umanità insieme al sapere medico gli operatori sanitari mi avvio la conclusione sono infatti interpellati proprio a questo livello quello del rapporto terapeutico la relazione di cura non va intesa come elemento accessorio indifferente come atto di conoscenza sempre nuova nel quale l'altro si senta realmente accolto nella specificità del personale sua e sostenuto nella domanda di cura quindi l'incontro medico-paziente un'esperienza di grande valore che non può che migliorare la clinica e quindi necessita di un lavoro un lavoro che lo rivaluti come fondamento di un atto di cura efficace e insieme di una crescita professionale autentica per questo per questo realismo non certo per spiritualismo lavoriamo sui fattori umani non scissi dall'attività clinica anzi che ne integrano questi fattori umani lo spessore abbiamo parlato di speranza di condivisione parliamo di compassione parliamo di soggetto e di relazioni di cura sino alla possibilità straordinaria eppure necessaria del perdono è un problema che hanno trattato i nostri psicologi in due seminari che hanno proposto quest'anno e pensate quanto è appropriato questo termine per le quante volte che noi o i pazienti viviamo la malattia e il dolore come un'ingiustizia perché proprio a me come una punizione che ci è capitata ecco perdono e quindi possibilità di libertà dalla malattia e nella malattia vi ringrazio dell'attenzione grazie Giorgio perché credo che sia chiaro a tutti che quello che tu hai detto per l'operatore sanitario vale per la moglie il marito chiunque di noi va a trovare uno che ha bisogno o l'altro insomma chi assiste caregiver chiediamo adesso una parola anche a Mario Melazzini che non ha bisogno di presentazioni perché c'è un elenco di presidenze in campo dei centri nemo e di tutto oltre che l'assessorato ma soprattutto perché dal suo sì sono nati dei centri dove prima di tutto i malati sono guardati e questo è il primo bisogno tanto più di malattie come queste intanto lo ringraziamo per il libro e per essere qui l'ultima parola non è la parola fine ma bene che cosa significa è solo una questione di sguardi di ciò che realmente vogliamo vedere oppure non vogliamo vedere mai più di quest'anno il tema del meeting è per me particolarmente significativo ma soprattutto mi ha permesso di ripercorrere e di comprendere in maniera più concreta e reale il mio percorso con la malattia vedete se noi lo rileggiamo di che è mancanza questa mancanza cuore che a un tratto ne sei pieno soprattutto perché il cuore diventi cosciente della sua mancanza come c'è stato spiegato molto bene nei giorni scorsi ci vuole una ferita definita e definitiva nel mio caso specifico la malattia ma soprattutto vedete quando chiunque di noi si scontra inizialmente dicevo così con la malattia ciò che va inizialmente è sullo sguardo del passato su ciò che non avrei più potuto fare su ciò che non sarebbe stato più possibile coniugarlo con una vita con quella vita un percorso che noi tutti c'eravamo ipotizzati e delineati quindi proprio quel concetto del benpensante di voler accelerare finire è brutto dire tutto ciò dopo che abbiamo sentito questa bellissima testimonianza che ci permette di comprendere quanto sia importante questo percorso che ci è stato donato ma la cosa interessante proprio è che inaspettativamente mi è stato posto in un momento drammatico del mio inizio di malattia del percorso di malattia da un carissimo amico mio padre spirituale Silvano Silvano Fausti mi ha regalato sia il libro di Giobbe ma anche e questo non l'ho mai detto perché ci tenevo è una cosa molto mia molto intima il senso religioso di Don Giussani e che mi hanno aiutato tantissimo e mi aiutano quotidianamente nel mio percorso di vita nel mio percorso di vita quotidiana soprattutto di crescita e di consapevolezza non accettazione ma consapevolezza del mio limite che la malattia mi presenta nella quotidianità in particolare a parte Giobbe che ho fatto mia una frase alla fine cioè ti ho conosciuto per sentito dire ma adesso ti ho incontrato ti ho visto e quindi so che cosa quel mistero che mi precede mi accompagna ma soprattutto per me significativo sono state quelle domande che sono state poste per che cosa vale la pena di vivere nel senso religioso proprio qual è il significato della realtà e che senso ha l'esistenza e indipendentemente da qualunque compreso sia la nostra posizione sia dal punto filosofico politico teoretico queste sono domande che sono espressione di tutti perché tutta la vita e questo lo sto comprendendo l'ho compreso e lo rafforzo sempre di più affermano l'esistenza di un qualcosa che sia ultimamente il senso per cui si vive e quindi come si diceva come veniva detto coincide con quel senso originale totale dipendenza che è l'evidenza più grande e suggestiva per l'uomo di tutti i tempi e questo è fondamentale cioè questa presenza fortissima di qualcosa da cui tutto dipende si chiama nella nostra tradizione proprio Dio esplicitamente Dio e quindi grazie anche a questo ma soprattutto la realtà vissuta come mistero che mi sono spiegato e mi ha permesso e ci ha permesso perché poi ho coinvolto un po' di persone nel fare quel bellissimo percorso con la malattia per arrivare a Nemo ma vedremo perché perché molto spesso tutto ciò che ci può succedere che vediamo semplicemente non desiderato ma c'è sempre una motivazione c'è sempre una sorta di urto che ci capita nella nostra quotidianità che non avremmo mai voluto che ci accadesse ma nella contemporaneamente ci spalanca delle porte ci dà quella consapevolezza incomparabile di noi stessi che vanno a introdurre ci introducono il nostro io in una profondità di una grande scoperta di sé prima sconosciuta come qualche metà fa c'è stato detto ma la cosa importante che mi permette di avere quella grande gioia quella grande fiducia quella grande tenacia è la consapevolezza quotidiana di vivere sempre intensamente reale senza però rinnegare e dimenticare nulla questa è una cosa estremamente importante una cosa che è stata molto ben citata anche da Silvia ma soprattutto che per me è significativa è una delle parole molto care di Giussani che l'io che però mi spiega perché oggi io sono qui e perché grazie a tutti voi e a tutti gli amici mi permettono un percorso con questa malattia con questa esperienza quotidiana che io considero in questo momento indispensabile di una grandissima opportunità e quel valore aggiunto che mi accompagna soprattutto perché dove la realtà diventa io la realtà prende coscienza di sé e questo è estremamente forte e un'altra cosa importantissimo e questo è la cosa è lo stupore che quotidianamente io provo anche davanti alla sfida della realtà che poi è anche citato nella rinascita di un incontro ma tutto questo cosa succede? ciò che provo mi ha portato e mi porta allo sguardo ecco lo sguardo che ci viene ridato ogni mattina lo dicevo stamattina mia moglie svegliandomi oh come sono felice oh che bello cioè la serenità con tutta la difficoltà come citava giustamente Silvia perché tutto noi lo viviamo nella normalità ma è un percorso è un faticoso nella a partire da tre quattro ore prima per poter essere pronti tenuti ben vestiti ben lavati per essere qui tutti insieme però questo grazie a quella consapevolezza del mio del nostro limite ci permette di ringraziare tutto ciò che ci viene permesso e paradossalmente quando si è colpiti da una grave malattia qualunque essa sia che possa essere soprattutto grave gravemente invalidante a prima vista sembra sia impossibile se non insensato coniugarla con un concetto di salute a volte però può succedere che una malattia come ad esempio queste malattie di cui sia Giovanna Ugo io stesso ne siamo colpiti che mortifica e limita il nostro corpo in modo evidente possa invece rappresentare una vera e propria medicina per chi deve convivere vivere io dico con essa al momento senza la possibilità di alternative al momento perché la malattia è quello che dicevo anche prima può disegnare nel bene o nel male una sorta di linea incancellabile nel percorso di vita di una persona e di chi lo circonda dei propri affetti dei propri curanti o meglio edificare una serie di colonne ed ercole superate le quali noi non possiamo tornare indietro ma c'è molto consentito di andare avanti ed è possibile pensare e fare soprattutto ciò che non siamo non ipotizzavamo di poter fare che non si è più in grado di ottemperare e se noi pensiamo e ragioniamo in questi termini la malattia può veramente diventare come diceva anche Rodolfo prima una forma di salute e salutare perché permette prima di tutti di sentirci ancora utili prima di tutto a noi stessi ma poi ai nostri familiari ai nostri amici ma soprattutto è salutare perché ci permette di renderci conto che nella vita non possiamo e non dobbiamo permetterci di dare nulla per scontato neppure avere un bicchiere d'acqua a volte senza soffocare e talvolta siamo così concentrati su noi stessi che non ci rendiamo conto della bellezza delle persone che ci circondano delle cose che ci circondano magari da anni magari magari da sempre e quando magari come quella ferita la malattia nel caso specifico ci ferma bruscamente o ci sveglia bruscamente può accadere che la scala di valori cambi e questo è importante certo perché il dolore e la sosserenza di tutti noi in quanto tali non sono buoni né desiderabili ma non per questo non hanno significato ed è qui come diceva anche Giorgio però è importante che l'impegno nostro della medicina della scienza medica deve concretamente intervenire per migliorare sì per guarire ma soprattutto per curare la loro e soprattutto migliorare la nostra qualità di vita e noi medici noi operatori noi ricercatori abbiamo una grandissima fortuna e opportunità quella di poterci rapportare a relazionarci con l'essere umano che soffre ma che poi riesce trasmetterci e insegnare ecco perché quello che dico che un corpo malato può portare salute all'anima rendendola più forte più tenace più determinata più disponibile a buttarsi con tutta se stessa in questo nuovo percorso di vita qualche tempo fa ho scritto in una mia riflessione che la malattia non porta via l'emozione i sentimenti la possibilità di comprendere che l'essere conta più del fare Ugo Giovanna tanti altri lo testimoniano ma può sembrare paradossale ma un corpo nudo spogliato della propria esuberanza della propria fisicità a volte mortificato fa brillare maggiormente l'anima che è il luogo in cui sono presenti tutte le chiavi che ci possono aprire in qualsiasi momento la via per completare ognuno di noi ognuno di noi nel modo migliore il proprio percorso di vita e questo grazie a tutto questo ricorrendo proprio nel tema del meeting ho detto ma che cosa ho fatto in questi anni che cosa mi è stato permesso di fare con quale dono io dico ma correndo proprio dicevo ma io che faccio l'oncologo ho fatto l'oncologo per una vita mi sono trovato ad andare ad aprire a fare dei centri neurologici diciamo o meno dei centri per le persone con determinati bisogni e questo è stato un po' però anche quello prima di iniziare mi sono fatto delle domande è stata una domanda qualche anno fa con medicina e persona c'è stata una sessione qui al meeting in cui il titolo era chi è l'uomo perché io lo curi ecco quello a me è servito moltissimo perché una risposta che è stata e veniva data è l'uomo il più debole il più indifeso quello che incontri all'angolo della strada il coraggio non di voltare la faccia ma di fermarti indipendentemente da quello che possa essere la sua condizione ma soprattutto io non mi rendevo conto di non essere un uomo libero e questo uomo libero che cosa è la libertà anche qui la definizione l'essenza dell'io umano è libertà che implica cuore, cervello intelligenza e forza di volontà ecco è questo che ho fatto e guardate una questione di sguardi se potete fare due minuti e mezzo di video se può partire per favore di sbagliare Grazie a tutti 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 Grazie a tutti